Siamo qui con Mr. Breia, il mister del futsal quarto dopo questa bella partita che è finita con una vittoria per 5 a 3 per appunto la squadra del mister. Mister, quali sono le sue impressioni su questo match che penso sia stato abbastanza fondamentale ai fini della classifica? Sì, sì, oltre alla classifica voglio fare i complimenti alla squadra avversaria perché le belle partite si giocano sempre in due, non si può giocare in una squadra. È stata una bella partita, abbiamo giocato bene noi con un ritmo alto, loro hanno risposto con un ritmo alto, con la loro qualità. È stata una bellissima partita, una partita che raramente si vede in questo girona, con un ritmo gara alto, fortunatamente, un campo bellissimo e faccio i complimenti alla squadra avversaria, oltre ai miei ragazzi naturalmente. Mister, una partita che a un certo punto sembrava potesse finire in un qualsiasi risultato negli ultimi minuti di gioco. Poi c'è stato il gol del 5-3 di Kakace che ha messo fine alla partita. Come l'ha preparata questa partita, Mister? Noi sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra con una qualità alta, qualità di giocatori alta, quindi dovevamo tenere un ritmo alto per tutta la partita. Ci siamo riusciti in gran parte del primo tempo, secondo me sul 2-0 potevamo anche fare qualcosa di più. Abbiamo preso il palo sul tiro libero, sempre sul 2-0. Purtroppo l'espulsione di Trincone ci ha un po' penalizzato, un po' fermato, però abbiamo subito il 2-1 in quell'occasione. Però la partita era aperta a qualsiasi risultato, come dicevi tu. Kakace l'ha spezzata con quel 5-3 a 4 minuti dalla fine. L'ha indirizzata poi a favore nostro, fortunatamente. Ma ti ripeto, io mi sono divertito oggi e questo per me è importante, perché la squadra mia ha giocato di livello contro una squadra di livello. Grazie.